Le Weinkellerai in Arau sono un'azienda familiare indipendente che si è voltata alla qualità fin dal 1873. La nostra solidità poggia su tre pilastri. Il primo sono i nostri clienti, molto esigenti, che vogliamo soddisfare ogni giorno. Il secondo è rappresentato dai nostri fornitori, che conosciamo uno ad uno di persona. Andiamo ad acquistare i vini tanto in Svizzera quanto all'estero, proprio laddove maturano le uve. E il terzo pilastro ve lo mostrerò alla fine di questo video. La nostra lunghissima esperienza, il nostro modo di pensare e il nostro lavoro assolutamente orientato alla qualità, i rapporti personali che da decenni coltiviamo con i produttori in Svizzera e all'estero, consentono alle Weinkellerai in Arau di mantenere un proficuo scambio professionale con le aziende vinicole e garantiscono di poter tracciare l'intera filiera della qualità, dal grappolo al bicchiere. La qualità del vino è la nostra priorità. Le Weinkellerai in Arau effettuano controlli costanti, questa è la loro missione, e ne sono garanti per offrire affidabilità e sicurezza ai propri clienti. La tecnologia più moderna e processi rispettosi dell'ambiente si abbinano ad un'inesauribile creatività e non lasciano insoddisfatta alcuna esigenza di qualità e design. Continuiamo ad accrescere e ad aggiornare le nostre conoscenze, ad essere vicini ai nostri vini perché questo è in sintonia con il valore aggiunto dei nostri prodotti. Un supporto professionale e un servizio solerte sono le colonne della nostra assistenza alla clientela. L'orientamento strategico delle Weinkellerai in Arau pone al centro il cliente con l'obiettivo di trasformarlo in partner. Per questo sono stati effettuati investimenti nelle infrastrutture, nella tecnologia e nella distribuzione. Con un sistema di logistica tra i più moderni, le Weinkellerai in Arau consegnano ai loro clienti in tutta la Svizzera. E ora teniamo fede alle promesse. Ecco il terzo pilastro, i nostri 72 collaboratori che sanno dare il meglio giorno per giorno. Grazie a tutti.